Cari amici di Mille Un'Avventura, un evento è capitato qualche giorno fa, proprio nel periodo in cui ero in vacanza e ci tenevo a pubblicizzarlo appena sarebbe avvenuto e invece ho dovuto rimandare di qualche giorno. Ma finalmente possiamo parlare di un evento eccezionale, il ritrovamento, o meglio, la riproduzione di The Sumerian Game, un gioco che ha almeno 60 anni di storia, storia praticamente dimenticata in certi tratti, ma che un ricercatore italiano, Andrea Contato, è riuscito a ricostruire. Qui vedete una mia diretta, quando ancora più di sei anni fa facevo dirette sulle avventure testuali, avevo provato questo Hammurabi, qui sono due M come deve essere scritto nel titolo in cima che vedete, però questa era la versione, mi pare, recuperata, vediamo un po' di... ecco, questa era la versione scritta in basic da David Hall nel 73 e tradotta in italiano e javascript da Fabrizio Venerandi nel 2017. Quindi è una versione portata sul web dopo tanti anni, 73 ovviamente ormai sono passati 50 anni, più di 50 anni, qui vedete il famoso libro di David Hall del 73, in cui si trovano tutti questi listati che aveva reso disponibili di vari giochi che erano stati creati sui mini computer dell'epoca, questi computer che avevano un costo elevatissimo, che non erano sicuramente degli home computer, ma che nel corso del tempo, ricordate Colossal Cave, la progenitrice di tutte le avventure testuali, ebbene, nati sui mini computer, questi giochi erano poi stati portati sui home computer che stavano nascendo in quegli anni. e Hammurabi era uno di questi giochi su questo libro e da dove aveva origine questo Hammurabi. Beh, ne abbiamo parlato già all'epoca 6-7 anni fa, mi ero messo alla ricerca del progenitore di questo Hammurabi, che era noto come The Sumerian Game. Ho cercato un po' su internet, si pensa che su internet si possa trovare tutto. Non è così, bisogna lavorare sul campo. Vedremo un esempio anche tra poco di lavoro sul campo di ricerca, non attraverso i canali digitali, ma attraverso un lavoro appunto di camminare, prendere l'auto, andare a consultare delle biblioteche, degli archivi e così via. Ecco, dicevo che ho già parlato di questo The Sumerian Game in altri video, in cui ho fatto un po' la storia purtroppo non riuscendo ad andare oltre quello che c'è scritto su internet. C'era un ricercatore tedesco che puntava a ricreare questo The Sumerian Game, però aveva incontrato delle grosse difficoltà, gli mancavano dei pezzi importanti. Pezzi importanti che però Andrea Contato è riuscito. Ecco, qui vedete una Streaming the Past Amurabi, qui con una M sola perché si parla del programma per computer, quindi otto caratteri, c'è questo particolare degli otto caratteri. Ecco, vedete che se ne parlava, se ne è parlato, ma apparentemente fino a qualche anno fa nessuno era riuscito a mettere le mani sui listati e anche adesso probabilmente è stata solo un'opera di ricostruzione. C'era stato un live stream nel 2020 di queste cose, comunque diciamo che arriviamo un po' più vicino ai giorni nostri. The Sumerian Game, che tra poco giocheremo scaricandolo addirittura da Steam, incredibile, ha ovviamente portato a tanti giochi dello stesso genere, giochi gestionali in cui bisogna gestire un regno, gestire in quel caso un regno sumero. Invece si è arrivati fino a qualche anno fa, questo è uno stream di due anni e mezzo fa, Stefano Crespi ha preso spunto da Manor, un gioco gestionale del 1986, anche questo di una lunga tradizione di questi gestionali che sono andati a costruire su una base del 63-64 per aggiungere cose. Grazie a Stefano Crespi possiamo giocare a questo maniero assolutamente moderno nell'interfaccia, nel senso che è un'interfaccia a caratteri, ma partendo dal Manor dell'86 Stefano Crespi ha costruito un'interfaccia del codice in più e nel 2021 è riuscito a proporre questo gioco che abbiamo giocato varie volte, abbiamo fatto varie, eccolo qui volevo far vedere la mappa, ecco qui vedete la mappa dei vari feudatari che stanno coltivando le terre per il re e quindi bisogna gestire il grano da seminare, il grano per mantenere la popolazione, per mantenere l'esercito, tutta una gestione, una micro gestione che diventa davvero profonda e anche difficile da portare a termine questo gioco non è assolutamente facile. Qui sotto in descrizione trovate anche il link a questo gioco così potete provare voi stessi ma troverete ovviamente anche il link a The Sumerian Game. Infatti, e qui trovate, scavare nei meandri del passato ci dice il professor Francesco Toniolo, ecco qui vedete una live, se ne è parlato al momento giusto, non una settimana dopo come sto facendo io, una live di quattro giorni fa sul canale di Francesco Toniolo che ha intervistato Andrea Contato e parlano proprio di The Sumerian Game, Computer Game del 1963. Non si può parlare di videogame anche se nel video appunto del videogioco perduto vi faccio vedere, ecco qui, ecco qui vedete che ci sono, sembra che ci sia uno schermo no? Oltre a questa telescrivente terribile degli anni 60, mastodontica, sembra che ci sia un video qui ma in realtà si trattava di diapositive proiettate e a quanto ho capito da Andrea Contato proiettate preliminarmente per far capire il contesto agli studenti che affrontavano questo gioco su questa telescrivente, affrontavano questo gioco studenti di scuola media e dovevano, lo scopo di questo gioco era quello di avere un riscontro, possono i programmi per computer avere una valenza didattica? Ovviamente la risposta che abbiamo dopo 60 anni è sì, a parte i videogiochi che possono essere più o meno didattici ma esistono ovviamente programmi veri e propri didattici per la scuola e all'epoca non avendo a disposizione computer home computer bisognava prendere delle classi e portarle dove c'era appunto la telescrivente collegata al mini computer degli anni 60, un computer IBM del 63-64. Di tutto questo ovviamente ci parlano molto meglio in questa diretta, ovviamente ne parla molto meglio Andrea Contato che è riuscito a superare grazie alle sue ricerche tutti i materiali presenti su internet che altri ricercatori anche americani avevano recuperato ma a quanto pare lui è andato molto oltre ed è riuscito quindi a ricostruire praticamente tutto il programma e adesso lo andremo a provare. Il sito di Andrea Contato è questo, lo troverete sempre qui sotto in descrizione nei vari link perché vi parlavo di altre ricerche sul campo perché qui sul sito di Andrea Contato trovate la storia di Alessandro Castellari, l'autore di Avventura 1 e di Avventura 2 ovviamente si può leggere qui tutta la ricerca che Alessandro Castellari, la ricerca di Alessandro Castellari che purtroppo ha portato a una, non c'è più questo autore, però c'è tutto l'articolo che Andrea Contato è riuscito a mettere assieme per riscoprire un po' chi era questo autore di un programma, un'avventura testuale diciamo più GDR, anche GDR insomma gioco di ruolo che aveva anche questa portato a tante tante copie, tanti cloni tipo Conan, cose di questo genere, cloni di questo programma, di questo programma qui che si intitolava appunto Avventura 1 pubblicata su cassette e Andrea Contato ecco è riuscito a scoprire dove un po' la vita di Alessandro Castellari, anche qui io mi ero messo alla ricerca ma ero arrivato fin dove può portare internet, avevo trovato ovviamente su Google Maps i vari luoghi dove erano stati, dove erano state fondate, fondata la società che aveva pubblicato questi giochi, però più di lì insomma bisogna mettersi in auto, bisogna mettersi in treno e andare sul luogo, sui posti e parlare con le persone che hanno conosciuto questi autori e Andrea Contato questa cosa qui riesce a farla molto bene, ha tante pubblicazioni di questo tipo, addirittura adesso The Sumerian Game che è il sacro graal che tutti cercavano e che nessuno era riuscito a trovare o almeno a recuperare in modo fedele. Anche di Avventura 1 abbiamo un video qui ancora prima che Andrea Contato riuscisse a scoprire che fine avesse fatto il povero Alessandro Castellari e quindi è un video di sei mesi fa e subito dopo è stato dopo qualche settimana è saltato fuori insomma la ricerca. avventura 1 quindi ne abbiamo parlato e ora arriviamo a The Sumerian Game perché The Sumerian Game dopo 60 anni adesso è disponibile su Steam. Incredibile c'è tutta la pagina su Steam, il gioco di per sé è gratuito si può però vedete c'è un DLC che in realtà è una donazione forse c'è qualcosa collegato un libro probabilmente qualche documentazione in più però non ho guardato scusate ma ho guardato il gioco perché era quello che mi interessava c'è una bellissima presentazione in inglese perfetto il gioco ovviamente in inglese perché è una riproduzione di quel gioco esistono traduzioni di Hammurabi, i testi sono pochissimi, esiste addirittura la traduzione di maniero quindi tutta un'evoluzione di questo tipo di giochi. Una bella presentazione, il gioco ovviamente riproduce la telescrivente, adesso lo andiamo a giocare, la presentazione ve l'andate a vedere sulla pagina Steam, non ne approfitto ma davvero davvero bella, diciamo coinvolgente, vi spinge nonostante le schermate grigie con i caratteri bianchi vi spinge a scaricare il gioco per provare qualcosa di storico, è uscito il 15 luglio, sviluppatore AreSoft che fa capo Andrea Contato ecco stavo guardando qui ho fatto una prova, una sola, è andata malissimo per otto anni ho governato ma poi è andata malissimo è una bella confezione questa di The Sumerian Game su Steam perché ci sono anche gli achievement di Steam e si può vedere chi è riuscito a sbloccare questi achievement che percentuale dei giocatori ha avuto qualcosa di sfortunato unlucky, sometimes it happens anche a me è capitato, è molto facile avere questi eventi così ferali tighten your belt la gente non sarà felice perché i nostri sudditi se ne mangiano poco non sono molto contenti e così via perfect meal abbiamo collezionato tanto grano nei nostri granai qui c'è call the teacher ecco call the teacher è la frase o meglio la frase scritta alla fine quando uno non riesce a a terminare il gioco e quindi ha perso solo il 52% è strano o tutti hanno vinto però non vedo qui qualcuno deve aver vinto però adesso whistle to Gilgamesh forse è questo c'è anche la red shirt che come sanno gli appassionati di di star trek la camicciola rossa è quella che il malcapitato di turno che in quell'episodio di star trek la serie originale doveva morire ecco la la camicciola rossa qualcuno la deve indossare e di solito è quello che muore nell'episodio quindi c'è questa citazione qui io non credo di averla ancora sbloccata però ci sono anche gli achievement quindi qualcosa di molto ben confezionato e ci sono qui le informazioni tra il 62 e il 65 alcune classi di studenti di New York diciamo età 12 anni qualcosa del genere erano erano state impegnate in questa ricerca e praticamente potevano usare un mineframe i mini computer dell'epoca che costava decine di milioni di dollari all'epoca quindi la classe andava in gita in questo posto dove poteva provare The Sumerian Game dopo aver visto il briefing con le diapositive ma ho parlato anche troppo e andiamo a giocare quindi siamo qui su steam clicchiamo su gioca ho sbloccato 8 achievement ecco vedete che c'è la schermata è fissa quindi vedrete un po' poco perché io adesso ho una risoluzione piuttosto elevata si può giocare a The Sumerian Game l'originale o meglio la riproduzione dell'originale creata da Andrea Contato e altri adesso vediamo i credits che purtroppo scorrono un po' velocemente c'è anche la versione Amurabi in Focal Focal un linguaggio di programmazione molto diciamo sintetico il basic è un'evoluzione del focal ma molto più facile da utilizzare vi consiglio il corso di basic che la scorsa settimana essendo in vacanza ho pubblicato a puntate un giorno dopo l'altro il basic ovviamente del Commodore 64 quindi Amurabi in Focal la versione che abbiamo giocato di Fabrizio Venerandi del 2017 era invece la traduzione dal basic di David Hall del 73 quindi mi piacciono queste cose decennio dopo decennio qui vedete una bella mappa in pratica se usate The Sumerian Game andate a Lagash la capitale dei Sumeri se invece usate Amurabi finite a Babilonia quindi i babilonesi che chiaramente Amurabi non è un re Sumero come giustamente all'epoca della diretta il buon Fabrizio Venerandi ci aveva fatto notare ecco magari avevo detto Amurabi il famoso re Sumero no allora about vediamo about qui ci dice perso per 60 anni il gioco dei Sumeri è stato ricostruito dagli appunti e dai rapporti di Richard Wing usando le stampe di 10 giochi quindi erano stati salvati 10 listati di giochi che questi ragazzini avevano giocato torniamo indietro ve lo leggete voi tanto è gratis appunto lo potete giocare benissimo Credits ecco qui vi dice che Mabel Addis che è una è stata una donna ormai anche lei ci ha lasciati stavo cercando Richard Wing Andrea Contato Douglas Diamond ecco qui purtroppo scorrono un po' velocemente non si riescono a leggere bene però ci sono un po' di nomi di chi ha lavorato la versione originale e di chi è riuscito a riprodurre questa questa versione invece ci sono degli extra ecco qui che forse si vede ecco questo è The Sumerian Game Supporter Pack qui vedo un volume di vari libri che Andrea Contato ha scritto contenuti scaricabili in pratica se pensate che questo progetto sia valido e volete imparare di più potete prendere questo DLC e qui c'è scritto quello che avrete l'ebook completo Video Games The People Games and Companies il Stage 1 1979 è Before quindi è il volume che parla di videogiochi fino al 1979 a firma di Andrea Contato e c'è anche il PDF o le pub se preferite come è stato ricostruito The Sumerian Game cioè la storia di come è stato ricreato questo gioco perduto e poi verranno anche immagini originali printable artwork quindi disegni vari insomma questo però verrà rilasciato successivamente però se avrete il DLC otterrete tutto quanto quindi se il progetto vi piace volete supportare l'autore mi raccomando c'è anche una recensione una recensione perché non riesco a leggerla non leggo mai le recensioni di comunque c'è una recensione looks good ecco non me la faceva vedere perché era in inglese evidentemente filtro l'italiano ma non le vado mai a leggere perché per la maggior parte non sono interessanti bene dicevo The Sumerian Game dove è finito ce lo siamo persi è già in esecuzione ovviamente non volevo aprire qui ma volevo aprire qui bene extra quit ovviamente usciremmo proviamo a giocarlo vi leggo io perché appunto è piccolo non si vede The Sumerian Game eccoci qua a Lagash siamo un resumero run 100 vedete quando si eseguiva c'era la telescrivente che scriveva queste cose Swilx is running slide 1 it cr quindi probabilmente ci sarà la prima slide proiettata salve prima che inizi inserisci il tuo nome prima il primo nome poi il tuo insomma 1001 avventura 1001 avventura now 1001 sei pronta per operare il il modello economico Sumero immagina di essere stata di essere il just been made ruler of Lagash la cittastato dei Sumeri nell'anno 3500 prima di Cristo due volte all'anno il tuo visir Urbaba visir molto dopo ma Urbaba è il nostro consigliero il nostro royal steward ci dirà come sta andando il regno guidati da questi rapporti deciderai l'uso del grano e delle altre risorse cercando di mantenere la popolazione stabile e ben nutrita dopo ogni rapporto il court advisor ci dirà come sta andando il nostro regno ecco lo steward il consigliere userà la telescrivente un Sumero molto avanti come tecnologia quindi la telescrivente ci scriverà tutto quindi noi siamo il re di questa città stato Sumera Lagash allora siamo in 500 in questa città stato sono coltivati 600 acri abbiamo 900 stiedi staglie di grano come si dice nei nostri magazzini vecchie di una stagione il grano invece che è stato mietuto 13.000 quindi in totale 13.900 bene siamo arrivati al momento in cui dobbiamo decidere con quanto grano nutrire la popolazione 500 facciamo 5.000 diamogli 5.000 staglie di grano e sono 500 10 a testa basteranno avete sentito il suono della telescrivente quindi 5.000 quanto invece vogliamo piantare per il prossimo raccolto ora abbiamo 600 di terra non ne ho idea proviamo a metterne 10 ogni quindi 6.000 perché 600 di terra per 10 6.000 in tutto quindi 11.000 mi rimane qualcosa allora quindi rimangono 2.000 staglie di grano nei magazzini è giusto 1 per confermare vediamo che succede allora lo steward ci dice ahia è già successo qualcosa di brutto mi dispiace 944 cesti di grano chiamiamoli così così sono più sicuro sono marciti o mangiati dai topi quindi abbiamo perso un bel po' c'è anche stato un disastro per ah qui c'è scritto flood disaster placeholder probabilmente questa cosa qui tra sterischi non è stata recuperata il testo vero dell'inondazione non è stato trovato perché vedo placeholder come dire non so se avete mai visto il film free guy eroe per caso beh c'era l'eroe digitale di un videogioco che era stato appena creato non tutto era stato sistemato ma il gioco doveva uscire e allora invece di dire la frase normale che dovrebbe dire la frase caratteristica del personaggio il personaggio diceva catchphrase beh qui flood disaster placeholder penso che sia una cosa del genere fortunatamente non ha fatto gravi danni questa inondazione ora vediamo che sta succedendo la popolazione non è cambiata quindi l'ho azzeccata non è morto nessuno però era troppo poco quello che la popolazione ha ricevuto quindi devo aumentare i cesti di grano che gli devo dare gli avevo dato 5.000 diamogli un po' di più poi abbiamo 13.000 nell'ultima stagione in questa stagione altri 13.000 inventario 900 comunque abbiamo 14.916 di grano cosa farne? beh aumentiamo un po' il grano mettiamo 8.000 visto che 5.000 si sono lamentati e ora devo piantare e non lo so quanto ne pianto di grano non ho ben capito se prima ho esagerato oppure no a parte che non mi ricordo neanche quanto avevo piantato prima facciamo 3.000 allora mi sono rimasti circa 2.000 cesti di grano va bene sì vediamo un po' che succede allora ecco purtroppo 1039 sono stati mangiati dai topi a quanto pare non ci sono stati disastri questa volta la popolazione è aumentata 505 di 5 dell'1% neanche tanto vedo che comunque ho avuto un bel raccolto 12.000 non male continuiamo sta andando bene forse riesco arrivare al decimo anno quindi 8.000 gli sono piaciuti proviamo 7.000 per alimentare la popolazione vediamo se cominciano a lamentarsi e poi quanto ne devo piantare boh facciamo 2.000 scendiamo vediamo se allora 3.000 mi rimangono nel nel magazzino chi avrà giocato da murabi si accorge che è proprio la stessa cosa quindi a murabi come si sa ha preso ispirazione da questo gioco da racconti di questo gioco ovviamente allora se dunque ho perso 1556 luduga temo che la popolazione si è inimicata il dio Ningirsa a quanto pare gli incendi hanno distrutto i nostri raccolti e questo è un disastro di severità media di gravità media comunque siamo ancora in 505 e i raccolti sono dimezzati si sta mettendo male perché le risorse sono solo 10.000 quanto grano allora si sono lamentati sì proviamo 7.500 visto che 7.000 era troppo poco e quanto mi rimane per coltivare proviamo a coltivare poco facciamo 600 di coltivazione vediamo un po' vediamo che succede perché non non ho non c'è nelle spiegazioni quanto possa valere ho solo azzeccato ah scusate uno per andare avanti abbiamo 2.000 di grano sta andando malissimo quindi 7.500 è poco devo dargli 8.000 da mangiare siamo solo al terzo anno di regno di Luduga primo e direi che abbiamo dovevo seminare anche le riserve perché adesso ho solo 3.797 cesti di grano e quindi non ho abbastanza per nutrire la popolazione proviamo a dargli 3.000 speriamo non ne muoiono troppi e piantiamo tutto il piantabile 797 ah però ma ah perché c'è qualcosa che non mi torna perché dice ah no ha preso 1.397 cesti di grano dai magazzini quindi ha dovuto ricorrere ai magazzini e lo so andiamo avanti allora ne sono morti 171 molto bene la mia popolazione decimata meglio così ce n'è meno da foraggiare abbiamo anche ottenuto un discreto raccolto ora con 334 se prima dovevo darne 8.000 dovrei darne mi sa che riduco ancora la popolazione quindi 2.000 di grano e semino tutto quello che resta e andiamo avanti vediamo che succede allora la tua popolazione è diminuita del 33% mentre le dimensioni della tua delle tue piantagioni non è cambiata devo chiedere allo steward di cambiare il numero di acri di terra che sono coltivati direi di sì visto che ho meno gente sì ma io volevo cambiare ah ecco ha diminuito automaticamente non devo chiedere io quindi ho 396 acri invece dei 600 che avevo nel passato intanto sono morti altri 111 sumeri della mia città e quindi sta andando malissimo che facciamo allora 223 nutriamoli con 1200 forse riesco a salvare un po' più di gente e piantiamo quello che resta cioè 301 e confermiamo posso ridurre ancora gli acri ma direi di no ho già ridotto tanto allora a quanto pare sempre la popolazione si è inimicata il dio perciò è stato incendiato ancora la piantagione tutto il raccolto è andato perduto altri 89 abbiamo perso altri 89 sumeri e abbiamo 386 cesti di grano e quanti anni sono passati in 4 anni allora diamogliene 350 e quindi mi rimane 36 da piantare va bene riduciamo le coltivazioni 236 acri mi sono rimasti 95 sono morti la popolazione è ridotta a 39 sumeri da 500 che eravamo il mio regno direi che sta andando molto bene saranno tutti molto contenti in Manor il maniero il gioco che vi ho consigliato prima a questo punto ci sarebbero già state delle rivolte e sarei già stato impiccato che facciamo 30 nutriamo i nostri 39 abitanti cerchiamo di farli sopravvivere e piantiamo i 9 che rimangono ho sbagliato ah no 37 era 7 che dovevo scrivere 7 bene moriranno tutti perché ho sbagliato mettiamo 100 vediamo se mi richiede allora nutrire la popolazione 30 piantare 7 speriamo bene diminuiamo ancora gli acri 68 acri ne sono morti 35 la popolazione è ridotta a 4 sumeri che ancora abitano la città direi di nutrirli gli diamo da mangiare almeno arriviamo al sesto anno e non piantiamo nulla perché giustamente bene andiamo avanti la popolazione diminuita del 91% diminuiamo ancora la coltivazione ci sono rimasti 5 acri e la popolazione è diminuita a 0 morti tutti c'era scritto di chiamare l'insegnante che evidentemente durante il gioco andava a bersi un caffè di quelli lunghi americani per passare il tempo e quindi teacher sono morti tutti che voto ho preso 0 bene questo era The Sumerian Game bisogna non ho sbloccato altri achievement in questa giocata tutti nella giocata di prova li avevo già sbloccati tutti e praticamente da qualche parte c'è Call the Teacher che è esattamente Perfect Meal c'è l'ira del dio Very unlucky Bring out Call the Teacher questo qui sembra che non è rimasto nessuno e ci abbiamo impiegato 6 anni bene spero che questo gioco vi interessi che ve lo stiate scaricando mettete delle recensioni possibilmente positive perché un lavoro di questo genere di ricostruzione di un gioco di 60 anni fa è assolutamente qualcosa di archeologia videoludica da apprezzare ecco ovviamente non scrivete recensioni in cui mettete che la grafica non vi è piaciuta perché la grafica è questa qui al massimo vi potrebbe non piacere questa grafica qui ma almeno qualcosa da vedere ce l'hanno messo sarebbe interessante se le ha recuperate vedere anche le diapositive ma probabilmente le tiene per il DLC per i materiali aggiuntivi per chi contribuisce allo sviluppo di quest'opera bene ringrazio tutti quelli che hanno seguito fino a qui ringraziamo anche Andrea Contato che ha fatto questo lavoro di recupero di archeologia videoludica assolutamente di 60 anni siamo tornati indietro nel tempo tornare indietro nel tempo parlando di giochi per computer è davvero difficile questo è probabilmente il gioco per computer più antico almeno sicuramente del genere gestionale e del genere pensato per la didattica non mi resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione commentate qui sotto e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti siamo autenticato senza dubbio ciò che amo è una avventura che il nostro mondo è ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti